Il primo tempo Il primo tempo Magnifico ancora Benevelli, Zampolini Benevelli Tiro Benevelli che realizza il suo decimo punto Benevelli E' marcato da Durod Andrizzo ancora fuori per Scrapolitas 7 secondi per andare al tiro Stergakos recupera la palla da Scavolini Con Dexter aiutato da Zampolini Durod va in avanti Serve Benevelli che va al tiro dall'angolo 14 punti di Benevelli Durod Entriamo nell'ultimo minuto di gioco Nikolic chiede maggiore velocità ai suoi uomini Zampolini, Benevelli Ora sono a uomo i greci Benevelli Cerca lo spazio per il tiro Realizza il suo sedicesimo punto 87 a 75 40 secondi all'anno Siamo a uomo i greci E' un po' di gioco E' un po' di gioco E' un po' di gioco E' un po' di gioco